Grazie Giacomo. Devo dire che c'è un po' di tensione lì dietro perché non sanno chi ha vinto. Quindi adesso vediamo un po' come sono lì dietro. Allora, terzo classificato per questo concorso, Veronica De Piazio! Congratulazioni Veronica! Vuoi dire due parole velocemente? Assolutamente no! Quante le aspettavi? Assolutamente no! Beh questo è il bello perché noi volevamo proprio questo. E' emozionata anche lei. Non ci può credere. Non ci crediamo invece. Puoi dire due parole? Grazie! Ce lo racconta dopo. Primissima classificata! Elena Piras! Elena tu puoi dire due parole però. E' obbligata esatto. Allora, ok. Noi abbiamo realizzato questo progetto a inizio anno per la Wanda. e abbiamo dovuto tenere in conto molte cose. Anche perché noi essendo un liceo artistico siamo molto, come dire, dovevamo stravolgere queste divise. Però dovevamo anche tenere in conto il fatto che i signori della banda devono avere vestiti adeguati, comodi, ma soprattutto caldi per le stagioni invernali, come sappiamo noi, che suonano durante il Carnevale. Infatti io per il progetto ho deciso di ispirarmi al Carnevale e anche per quanto riguarda i colori a quelli del Carnevale di Castellamonte. Il blu e il giallo. Grazie mille. Siamo già stati in Sartoria per prenotare questa divisa. Stanno impazzendo ma ce la faranno. Per Santa Cecilia indosseremo la nuova divisa. Vi invito tutti sabato 11 giugno per il concerto dei 200 anni al Castello di Castellamonte. Sarà uno spettacolo mozzafiato. Ringrazio il dirigente scolastico Valdino per questa bellissima collaborazione che è nata tra i due enti e spero continui a lungo. Grazie. Sono io a ringraziare in quanto il presidente della scuola sono fortunato ad avere certi docenti e certi allievi. Insomma, quelli non è che li ho fatti io. E ringrazio anche Giacomo Spiller visto che ogni tanto mi cambio anche il cappello metto anche quello di amante e praticante di questo brutto vizio che è la musica e quindi non posso rimanere indifferente. Mi fa molto piacere che festeggiamo i centenari insieme. Mi fa molto piacere, come ho detto al centenario, che l'istituto sia parte del territorio e in questo modo il territorio sia parte dell'istituto. Quest'anno si parlava di reciprocità nelle nostre feste, nelle nostre fiere. Questa è un'altra prova tangibile di questa reciprocità. Grazie a tutti. Grazie mille. Si è piacere di fare una foto con queste tre studentesse. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.